Faccio la premessa rispetto anche al perché siamo qua io e Dario oggi insieme sul palco e tanti altri ci seguiranno e ci accompagneranno sia in ruoli di responsabilità più in generale in questa che dovrà essere una bella campagna congressuale, che dovrà vedere tutti quelli che se la sentano metterci una parte di se stessi. A Dario queste settimane in cui ogni tanto ci siamo confrontati, ho sempre detto se ti vuoi candidare non devi chiedere permesso a nessuno. Come ho fatto io ogni tanto vedo che sarei il candidato di io, sono il candidato di me stesso, che per fortuna diventerà il candidato come sta diventando di tantissimi. Mi sono candidato dicendo che non avrei voluto, l'ho detto prima, non dopo, come di solito succede, essere il candidato di alcuna corrente perché un partito come oggi il PD va smontato e rimontato e noi dobbiamo avere la forza, il coraggio di mescolare e non farci chiamare più, permettetemi, col cognome di qualcun altro. Abbiamo bisogno di mettere in campo una pluralità di forze che oggi vede ad esempio una personalità come Dario Nardella e Immagini insieme ad altri riconvergere sulla candidatura di Stefano Bonaccini, dicendoci anche però che noi facciamo e parte, metaforicamente, anche con la bicicletta alle mie spalle, una corsa che dovrà vedere in primo luogo il massimo rispetto e lealtà tra di noi.